Marco Facodun Sono maître cioccolatier della pasticceria cioccolà di Latouille La passione per il cioccolato mi è stata tramandata da mio papà E ho cominciato con lui quando avevo 14 anni Da lì in poi è sempre stato un susseguirsi della ricerca dell'eccellenza Selezionando materie prime di altissima qualità Le prune della California sono state per me una piacevole sorpresa Perché sono prodotti di alta qualità I loro derivati sono ottimi e versatili per nuove creazioni a base di cioccolato Grazie Grazie Grazie